Il nordafricano 43enne accusato di tentata violenza sessuale e sequestro di persona di una 14enne di origini straniere prelevata nei pressi della stazione ferroviaria e poi portata in un casolare abbandonato alle 4.30 di lunedì mattina resterà in carcere a Villa Fastigi. Il giudice Giacomo Gasparini ieri ha convalidato l'arresto del 43enne e disposto la custodia cautelare in carcere. Davanti al giudice il marocchino ha negato ogni accusa e raccontato la sua versione dei fatti secondo la quale la minorenne l'avrebbe seguito volontariamente a piedi fino al casolare abbandonato. Diversa la versione della ragazza invece che nel frattempo è stata dimessa dall'ospedale con alcuni giorni di prognosi per le ferite riportate. Ferite che stando al racconto della stessa ragazza sarebbero state le conseguenze della sua roccambolesca fuga da una finestra del casolare dove l'africano l'aveva portata e abitava illegalmente. Per poi una volta a essere arrivata sulla Flaminia chiedere soccorso ai passanti che hanno attivato il 113. Un episodio sicuramente grave per la città di Fano che però si è connotato anche per alcuni aspetti sicuramente positivi. In primis il fatto che un cittadino fanese subito si è attivato, si è fermato, ha soccorso la ragazza che era in preda al panico, era sotto sciocche e avvisato, ha allertato subito il 113. Quindi ci ha indirizzato immediatamente sulla pista buona per poterlo arrestare, individuare e arrestare nell'immediatezza. Anche a differenza di altri automobilisti che non si sono fermati alla sollecitazione della ragazza seppur in estrema difficoltà sulla strada che vagava e seppur ferita in condizioni molto sfavorevoli. C'è anche da dire che il sospetto, questo cittadino marocchino, 43 anni, già era conosciuto, avevamo noi avuto a che fare con lui qualche anno fa proprio in occasione di arresti per droga che abbiamo eseguito qui a Fano. È ritornato a Fano dopo una detenzione che ha avuto nel carcere di Campobasso, un cittadino è stato già espulso dal territorio nazionale, però è rientrato nel nostro territorio qui a Fano anche se da poco tempo. E' un soggetto sicuramente pericoloso e soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi un'operazione sicuramente molto rapida, veloce, anche perché questo marocchino si sarebbe sicuramente allontanato anche considerato il suo stato di irregolarità sul nostro territorio.